Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd Dopo 13 anni d'attesa, ripeto, 13 anni d'attesa, ecco a voi il sequel del film che ha incassato di più nella storia del cinema e sto parlando proprio di Avatar 2, La Via dell'Acqua e com'è questo sequel del film del 2009? Com'è questo secondo capitolo di quello che diventerà un franchise firmato da James Cameron? Hmm, parliamone assieme in questa recensione, commento, analisi, opinioni, riflessioni, insomma eccetera eccetera prima senza spoiler e poi con spoiler, che di cose da dire ovviamente ce ne sono tantissime e il film dura più di tre ore, perciò fate un po' voi Partiamo, ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare ovvero iscrivetevi ai canali YouTube di Cosmopolinerd cliccando su stasino iscrivete e attivando la campanella delle notifiche anche su cellulare che è sempre una cosa importantissima e se volete supportarmi, oltre che supportarmi, trovate un sacco di modi meravigliosi in descrizione a questo video come il mio podcast Super Gaffa Sail Rapitore di Gatti la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo e andate a vedere che cosa vi garantisce il mio codice personale COSMO su Pampling, sito di maglietti e articoli nerd, non ne resterete delusi oh no, bene, ciancio le bande e... Navi, navi, le tue mani Entriamo subito nel vivo con la recensione senza spoiler dovete sapere che se da un lato sono molto contenta di avere l'opportunità di parlare di questo film con voi e dall'altro lato della medaglia sono un po' preoccupata ho buttato un occhio molto superficiale sicuramente per non farmi influenzare alle recensioni internazionali per capire giusto un po' che aria tirasse e c'è chi lo definisce un capolavoro e chi una mezza ciofeca e poi ci sono io che come al solito sono in una via di mezzo costante e perpetua nella maggior parte dei casi però capisco entrambi i punti di vista sia chi l'ha definito un capolavoro perché sicuramente ci sono dei motivi e dei crismi per definirlo in tal modo ma ci sono anche dei motivi che possono aver giustificato le opinioni contrastanti ovvero che lo vedono come una mezza ciofeca perché la cosa interessante di Avatar 2 è che è tutto cioè nel senso è un film molto 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 impegnativo sia per la durata ma soprattutto per gli estremi che riesce che riesce credo consapevolmente a toccare ma adesso parliamone senza spoiler però in maniera più approfondita partiamo dal lato più capolavoresco se così possiamo definirlo sicuramente il lato tecnico gli effetti speciali sono straordinari la regia, la fotografia, il montaggio insomma tutto il lato tecnico è veramente ispirato non si parla solo di tecnica qui si parla proprio di arte se si può parlare di arte per quanto riguarda gli effetti speciali beh almeno per gli effetti speciali di Avatar sicuramente sì l'avevamo già visto nel 2009 che cosa James Cameron assieme a tutti i suoi fidi collaboratori riesce a portare al cinema beh con Avatar 2 ha decisamente replicato il successo da questo punto di vista certo vedere tale perfezione nel 2009 ci faceva molta più impressione impressione positiva rispetto al 2022 però se ci pensate non è che anche nel 2022 ci siano tutti questi effetti speciali straordinari spesso anche in film di altissimo budget si vede che quello che stai guardando è finto è creato al computer invece il livello di vero somiglianza il livello di realismo il livello di straordinarietà di Avatar 1 e oggi Avatar 2 è secondo me ancora non raggiunto e probabilmente irraggiungibile poi magari domani esce un film che ha degli effetti speciali migliori di Avatar 1 e Avatar 2 ne dubito ecco però secondo me solo James Cameron riuscirà a superare James Cameron da questo punto di vista e quindi posso capire tutti coloro che hanno definito Avatar 2 un capolavoro perché da questo punto di vista credo non ci sia nessun altro termine per definirlo cioè siamo talmente avanti come eravamo anni luce avanti nel 2009 nel 2022 continuiamo a stare anni luce avanti rispetto a ciò che viene offerto nell'industria dell'intrattenimento odierna quindi da questo punto di vista davvero nulla da dire ma James Cameron è un signore che sa fare quello che fa e lo dimostra per l'ennesima volta con la via dell'acqua quindi sicuramente qua tanta tanta roba anche il 3D che io detesto io detesto andare al cinema e guardare un film con gli occhialini 3D ecco in questo caso tuttavia è molto interessante ho avuto la fortuna di vedere il film all'Orfeo di Milano che è un cinema veramente con i controhazzi nella sua sala rossa ha un ottimo 3D e quindi se andate in un cinema con un ottimo 3D saprete apprezzare questo film in tutta la sua grandiosità e la sua maestosità quindi per quanto duri tre ore e un quarto e se siete miopi come me e odiate il 3D come me possa essere una sofferenza ecco è talmente tutto meraviglioso che tale sofferenza vi passerà vi verrà poi il mal di testa alla fine del film ma quello è un altro discorso un'altra cosa strepitosa che ho adorato tantissimo è la cura per quanto riguarda il design e la cura per quanto riguarda i dettagli perché Pandora per essere così verosimile e reale anche i Navi per essere così verosimili e reali hanno un quantitativo di dettagli che li rendono veri e senza tutti quei dettagli sembrerebbero soltanto un mondo e delle creature create al computer che è quello che sono però non lo sembrano mentre le vedete in azione e questo è veramente meraviglioso considerate che all'interno del film conosceremo un'altra tipologia di Navi per non fare spoiler che ha dei dettagli diversi rispetto ai Navi che già conosciamo che sono perfettamente in linea con l'ambiente in cui vivono e ho trovato questa tipologia di dettagli straordinaria perché torna tutto è tutto così dannatamente reale in Avatar e Pandora stessa ogni singola alga ogni singola pianta ogni granello di sabbia ogni creatura marina o del cielo insomma così tanti dettagli e così ricca da sembrare più vera delle creature che esistono davvero sul nostro mondo ed effettivamente tutto ciò tutta questa cura tutta questa meraviglia nel raccontarci i Navi e soprattutto il mondo di Pandora in Avatar 2 la via dell'acqua sta alla base del significato del film secondo me l'intenzione primaria di James Cameron che ha diretto chiaramente esattamente come Avatar 1 questo film e l'ha scritto esattamente come Avatar 1 però c'erano anche altri sceneggiatori assieme a lui per Avatar 2 e la via dell'acqua ecco l'intenzione primaria di James Cameron è fare una dichiarazione d'amore nei confronti di questo pianeta nei confronti di Pandora perché in Avatar 2 la via dell'acqua si pone molto più l'accento e molto più l'attenzione sul pianeta tantissimo veniva fatto anche nel primo Avatar però magari eravamo affascinati un po' di più dalla cultura dei Navi che non conoscevamo invece nel secondo capitolo della saga la conosciamo già la cultura dei Navi ma è questa nuova parentesi del mondo di Pandora ad affascinarci e ad aver affascinato tantissimo anche James Cameron che ci dice ragazzi questo è il pianeta che ho immaginato ed è un pianeta nuovo non esiste ma pensate quanto sarebbe bello se esistesse davvero un pianeta come Pandora con questa natura lussoreggiante con una popolazione di nativi che non la vuole distruggere questa natura no, vuole sentirsi parte di essa è parte di essa è parte integrante del mondo perché chi nasce sul pianeta i Navii su Pandora fanno parte di quel pianeta non sono un qualcosa che vive a prescindere da esso e perciò pensate un po' quanto sarebbe bello se anche sulla Terra fosse così o ormai possiamo dire fosse stato così perciò cerchiamo di rendere il nostro mondo quel che ci resta del pianeta Terra un po' più simile a Pandora impariamo dai Navii non vediamoli come alieni quali sono che comunque c'è da notare che per quanto Navii siano degli alieni siano estremamente diversi da noi viene fatto un gioco sia all'interno del primo avatar che del secondo avatar per renderli sempre più simili a noi esseri umani in modo che noi ci possiamo identificare sempre di più con questa razza di alieni e quindi sentirli vicini e quindi sentire il loro mondo il nostro mondo e quindi insomma sicuramente il gioco che fa James Cameron con i Navii e con Pandora vuole scatenare negli spettatori identificazione e sensibilizzazione perché se già il primo avatar nel 2009 era una favola una fiaba un racconto fantascientifico a forte tema ambientalistico qua ancora di più certo nel 2009 avere un film blockbuster pazzesca a tema ambiente era una cosa avere invece un prodotto di intrattenimento anche un blockbuster oggi nel 2022 a tema ambiente diciamo che ormai è un po' più sdoganato da questo punto di vista avatar 1 era stato più rivoluzionario ecco e si era distinto molto di più tuttavia avatar 2 continua su questa scia perciò è bellissimo vedere come James Cameron ami tantissimo quello che ha creato ma non lo ami da un punto di vista onanistico della serie l'ho fatto io quindi lo amo tanto perciò toh beccatevelo no vuole costringerci quasi con delle durate da sequestro di persona cheat ad amarlo anche noi a volere che anche il nostro pianeta sia esattamente come Pandora infatti in avatar 2 ci sono un sacco di momenti ma davvero un sacco di momenti meravigliosi ma altrettanto inutili ai fini della trama del film in cui si esplora la fauna la flora le usanze dei nativi di Pandora sembrano dei documentari del National Geographic più che un film che dovrebbe portare da un punto A a un punto B diciamo che le digressioni sulla beltà di Pandora si sprecano davvero all'interno di questo film che sicuramente però lo rendono molto più affascinante di come sarebbe stato il film se non avesse avuto tutte queste parti qua quindi effettivamente sarebbero state da tagliare oppure no effettivamente la trama e la profondità dei personaggi la caratterizzazione i rapporti tra di loro è così fondamentale per James Cameron in Avatar 2 secondo me no secondo me la cosa fondamentale è quella che vi ho detto prima farci innamorare di Pandora mostrarci che meraviglia è e lasciarci trascinare dalla beltà di questo mondo che non esiste pur esistendo almeno davanti ai nostri occhi della storia e dei personaggi non gliene fregava una bene amata mazza me lo auguro che fosse così perché altrimenti molto molto male certo sicuramente siamo abituati negli ultimi anni a vedere delle ciofeche intergalattiche tuttavia da Avatar 2 mi aspetto tanto sotto tutti i punti di vista perché se il primo film era una scopiazzatura totale totale di Pocahontas dall'inizio alla fine praticamente qua abbiamo anche un canovaccio abbastanza confuso da un punto di vista di trama i personaggi si mantengono praticamente al 99,9% esattamente come nel primo film degli stereotipi molto molto superficiali che hanno un ruolo archetipico voglio essere gentile o meglio clichettoso che portano avanti per tutto il film tracciandosi un percorso del loro personaggio che però è ascritto alla tipologia di personaggio clichettoso che sono nel senso non escono mai dai binari della prevedibilità del telefonato del già visto insomma ma anche la trama di Avatar 1 era completamente già vista completamente telefonata sapevi ogni minuto che cosa sarebbe successo ma perché in Avatar 1 e in Avatar 2 nella trama nei personaggi sono mai stati la priorità mi auguro che magari andando avanti con il franchise visto che ci aspettano all'orizzonte altri 750 miliardi di capitoli ambientati su Pandora ci mettano anche un po' di profondità da questo punto di vista qui perché ormai insomma Pandora e i Navili abbiamo esplorati un sacco in questi due film magari se ci fosse anche una trama vera con dei personaggi veri dei bambini veri potrebbe essere decisamente più interessante o meglio ancora più interessante perché Avatar 2 ha tutto tranne la trama e i personaggi voi direte sticazzi sì sì sticazzi però vedete Avatar 2 riesce a essere contemporaneamente un capolavoro perché lo è e contemporaneamente una mezza ciofeca dipende da che punto di vista lo osservate quali sono gli aspetti che analizzate su cui vi concentrate perché ottenere un tale livello di precisione nell'espressività dei volti di queste creature i navii creati digitalmente ma già nel 2009 non solo oggi è una roba pazzesca è una roba pazzesca da brividi da pelle d'oca mamma mia però poi avere una trama che può essere riassunta con due righe e anche abbastanza corte e che viene diluita proprio a non finire in tre ore e un quarto di film mi viene da dire ma ragazzi che cosa ho fatto di male per meritarlo vi ci sono voluti 13 anni per scrivere sta trama queste due righe di trama davvero stiamo scherzando e poi è troppo lungo tagliate per piacere tagliate io alla fine della seconda ora ho avuto un calo un calo pazzesco di interesse sono successe un paio di robe che sono anche coinvolgenti ma proprio non me ne poteva fregare di meno cioè un'ora poteva essere tagliata tranquillamente tos mezz'ora mezz'ora in modo da renderlo uguale a avatar 1 che anche quello per me era troppo lungo per quello che andava a raccontare alla fine però vedete ce n'è per tutti i gusti ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le opinioni con avatar 2 ma adesso è arrivato il momento di parlare di avatar 2 la via dell'acqua con spoiler sì c'è un sacco di altre cose da dire e devo spoilerare ed è brutto ragazzi ci siamo guardate che adesso parto con gli spoiler siete avvisati siete avvisati bueno mi è piaciuto un sacco come abbiano riproposto in sense of wonder ovvero la meraviglia verso pandora perché se nel primo film noi conoscevamo Ina V e pandora attraverso gli occhi vergini di Jake Sully che veniva da un mondo completamente diverso e che quindi noi spettatori conoscevamo questo mondo nuovo questo popolo nuovo questa cultura nuova attraverso gli occhi suoi che è molto più simile a noi rispetto a Ina V direi essendo lui un essere umano viene riproposta il medesimo meccanismo nel secondo film perché con la famiglia Sully che è costretta a trasferirsi altrove per cercare di far perdere le tracce ai cattivoni umani che cosa fa si trasferisce in un altro angolo di Pandora con un'altra tribù la tribù dei navi marini chiamiamoli così perché i nomi pandoriani non mi ricordo abbiate pazienza ecco pensate che la moglie di Jake Sully io la chiamo Daikiri o Napapiri o Nagini abbiate pazienza coi nomi pandoriani sono un po' una frana ma so che saprete aver pazienza a riguardo quindi si scopriamo una nuova tribù nuove creature un nuovo lato di Pandora che non è più quello delle foreste delle piante altissime delle rocce delle creature che li abitano no è il mare l'oceano e quindi anche gli animali che scopriamo la flora che scopriamo è completamente diversa e come vi dicevo nella parte senza spoiler vedere i navi marini con questa coda più spessa con queste alette alle braccia che hanno un fisico molto più da nuotatori mi è piaciuto tantissimo perché c'è proprio un'attenzione ai dettagli che vanno a costruire l'identità del popolo o meglio dei vari popoli su Pandora veramente encomiabile e anche il fatto che il loro atteggiamento da guerra sia diverso rispetto a quello dei navi delle foreste è molto figo è come se fossero non so tipo neozelandesi che nel momento della guerra fanno come gli all blacks così tirano fuori le lingue così cioè ed è un modo di esprimere aggressività e decisione diversa rispetto ai navi che abbiamo conosciuto nel primo film e anche quindi questa costruzione dell'espressività dei costumi delle abitudini del nuovo popolo mi è piaciuta un sacco e che conosciamo anche stavolta con degli occhi da neofiti perché per quanto Jake Sully sia ormai un navi fatto e finito è un navi della foresta come la moglie e come i figli e quindi vanno dai navi marini e scoprono la beltà della marinitudine per la prima volta loro e per la prima volta anche noi e quindi il discorso degli occhi vergini torna di nuovo ma d'altronde il senso of wonder questo senso di meraviglia ci deve essere raccontato non da chi è già abituato a quell'ambiente a quella cultura si inserisce sempre un elemento che viene da un mondo esterno da un mondo esterno più vicino allo spettatore che si può per avvicinare appunto noi vergini e stranei in maniera più facile più convincente più emozionante più coinvolgente e ho trovato interessante anche il fatto che i cattivi del primo film ritornino incarnati in avatar navi non hanno più il loro corpo umano ma insomma la loro memoria la loro coscienza è stata inserita all'interno di questi corpi navi creati in laboratorio ok un po' è un riciclo da un certo punto di vista non mi è piaciuto perché cioè riproporre di nuovo gli stessi personaggi del primo film all'interno di corpi nuovi non mi ha fatto impazzire tuttavia per quanto sembri non coraggioso da un certo punto di vista sicuramente ha un senso perché se questi esseri umani uccisi dai navi odiavano tantissimo i navi ritrovarsi all'interno del corpo dei loro nemici giurati che odiano con ogni fibra del loro essere insomma è un bel contrapasso e quindi anche integrarsi all'interno di Pandora nei modi navi come infatti chiede il cattivone al figlio umano che è cresciuto con i navi che da un certo punto del film in poi impazzisce infatti ha un comportamento un po' confusionario non è stato scritto benissimo il personaggio di Spider ma insegna al padre non padre a collegarsi con le creature volanti insomma e quindi il fatto che questi soldati che odiano i navi vivano la vita in modo navi su Pandora è comunque interessante per quanto avrebbero potuto sforzarsi un po' di più e creare dei nemici nuovi probabilmente lo vorranno fare poi per il terzo quarto quinto sesto eccetera capitolo anche se vedendo che il cattivo non muore alla fine del film un po' mi fa pensare che ce lo ricicceranno di nuovo nel terzo film Santinovi tra l'altro quel personaggio lì è super stereotipato ma proprio da morire cioè credibilità zero rappresenta una minaccia perché è cattivo lui è un cattivo perché è cattivo che profondità cominciano a mettergli nel giusto un puntino alla fine del film quando sta minacciando la figlia di Susan Sarandon che la vuole far fuori c'è Daikiri Nagini Napapiri che prende il figlio di lui il piccolo ragazzino umano col coltello alla gola e nel momento in cui sembra che Daikiri stia per ucciderlo che cosa fa il cattivo lascia andare la giovane Navi impauritissimo non vuole perdere suo figlio quindi è sicuramente interessante vedere nuove sfumature o meglio qualche sfumatura di un personaggio che è sempre stato così dannatamente monodimensionale e sembra quasi come se ritrovarsi all'interno di un corpo Navi vivere un po' alla maniera dei Navi l'avesse sensibilizzato quindi vivere più a contatto con la natura un pochino più a contatto con la natura rispetto a prima è come se avesse fatto uscire la parte più umana di sé pur non essendo più umano quindi questo è interessante stare più vicino alla natura quindi anche comportarti in un modo più naturale perché da padre è naturale che ti interessi la vita di tuo figlio non è molto naturale fatto che non te ne freghi niente e che lo facciano fuori che non lo facciano fuori me ne sbatto la ciolla no? quindi questo è interessante e sicuramente anche il loro rapporto padre figlio è interessante per quanto confusionario è secondo me scritto male il percorso di Spider che sin da subito non avrebbe dovuto collaborare con il padre non padre avrebbe dovuto sin da subito mal consigliarlo non spiegargli come allacciarsi con una creatura volante insomma avrebbe dovuto essere una spina nel fianco dal primo istante all'ultimo invece no il film però non è molto chiaro nel raccontarci perché il piccolo spider si comporti in quella maniera sarà per cercare di ottenere l'approvazione del padre però guardate che è qualcosa che sto aggiungendo io non è il film che ce lo racconta chiaro e tondo e certo poi alla fine lo salva quindi sicuramente il loro rapporto verrà approfondito nel prossimo film però insomma non hanno fatto un grandissimo lavoro da questo punto di vista tuttavia è più interessante il loro rapporto padre figlio rispetto a quello di Jake Sully con i suoi perché veramente i suoi due figli sono l'incarnazione più stereotipata del cliché perché chiaramente il figlio maggiore quello preferito quello bravo che viene trascinato da quello più piccolo scavezza collo ribelle incompreso bla 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 questo fa cazzate su cazzate quello grande deve sempre cercare di limitare le sue cazzate e muore per colpa di una delle cazzate fatte dal figlio ribelle quindi il figlio ribelle poi si calmerà perché soffocato dai sensi di colpa e ovviamente capirà che deve agire in una maniera diversa va ad aiutare il padre in un momento decisivo e il padre solo in quel momento lì gli dà il suo rispetto dopo il momento di estrema crisi estremo trauma no classico l'abbiamo già visto 850 miliardi di volte da notare che tra l'altro questo stereotipo ambulante non è solo all'interno del figlio maschio più piccolo di Jake Sully e da Ikiri ma c'è anche nella balena la balena che è stata esclusa da tutte le altre balene chiamiamola così insomma perché sostanzialmente è una balena la balena che è stata esclusa da tutti perché praticamente ha organizzato questa missione punitiva nei confronti degli umani missione punitiva siamo ai navi però sono morti tutti sia i suoi amici baleni che i navi che sono andati per attaccare gli umani e quindi è esiliato reietto perché insomma ha portato i suoi amici e la sua famiglia alla morte per un qualcosa di non ben calcolato ed esattamente quello che ha fatto il figlio piccolo di Jake Sully e da Ikiri insomma abbiamo gli stereotipi usiamoli a non finire mi raccomando e a proposito di stereotipi che più stereotipi non si può c'è anche la povera Daikiri che nello scorso film era una guerriera super watà anche se in quanto donna chiaramente doveva fungere da guide doveva innamorarsi del protagonista quindi anche lì cliché su cliché che abbondavano ma qui è madre e quindi cosa deve fare deve fare la massaia cucinare e piangere tutto il tempo un po' perché se ne vanno un po' per quello un po' per quell'altro è sempre lì arrabbiata incarognita è sempre lì che si lamenta c'è un personaggio figo come Daikiri che si trasforma ad un certo punto di nuovo nella donna forte come l'altra capa tribù che è incinta tipo al nono mese che poi non so quanto durano le gravidanze su Pandora quindi dico un otto mesi e mezzo a nove mesi che nonostante quello va lo stesso a fare il culasau agli umani cioè veramente c'è una tipologia di rappresentazione all'interno di questo film che non è molto al passo con i tempi lasciamocelo dire come il primo Avatar sembrava un film vecchio da questo punto di vista Avatar 2 lo è ancora di più sembrano film scritti in un'altra epoca storica che non stanno al passo con le necessità dell'industria dell'intrattenimento attuali effettivamente cioè James Cameron c'ha un'età e si capisce in questo ok non vogliono dare importanza al ruolo della donna non vogliono dare importanza a tante altre cose vogliono dare importanza al ruolo padre e figlio però anche sta cosa del padre è protezione il padre protegge se non protegge allora che cosa serve a fare va bene io immaginavo che poi ci fosse ad un certo punto uno stravolgimento di questa cosa invece il film va solo ed esclusivamente a raccontare che il padre non protegge una minchia perché il suo figlio maggiore muore e alla fine comunque il suo figlio minore a prendersi cura di lui e quindi lui deve accettare la sconfitta in un certo senso a Jake Sully e questo va a rendere più interessante il suo personaggio che resta il suo il personaggio più interessante e meglio scritto di tutti i due i film di Avatar indubbiamente e quindi in realtà l'unico personaggio su cui si sono concentrati da un punto di vista di scrittura è il suo perché era lui che rendeva da un punto di vista di scrittura e di profondità e di emozione interessanti al 100% Avatar 1 ovvero la storia di questo ex marine disabile che non può più osare le gambe e che quindi da ex marine quindi da soldato si ritrova completamente inutile devastato dalla morte del fratello gemello che non ha più niente da perdere e soprattutto non ha più niente che lo tenga sulla terra e decide di compiere questa missione in questo mondo sperduto a fare chissà cosa e l'emozione del vederlo poter utilizzare le gambe di nuovo quando è nell'Avatar quando è nel corpo del se stesso Navi è una cosa pazzesca è veramente emozionante e anche il senso di impotenza gli passa perché infatti lui è utile è determinante per i Navi è fondamentale no? perché comunque un ex marine è abituato a essere un uomo d'azione ad essere un uomo che fa e invece l'essere diventato disabile gli impediva di essere se stesso di ricoprire il ruolo che aveva scelto per se stesso che comunque si ritrovava no? e quindi ecco perché sceglie di stare su Pandora perché lui si sente davvero se stesso può essere davvero se stesso ed è davvero accettato da un popolo diverso dal suo su un mondo diverso dal suo e quindi Avatar 1 da questo punto di vista è molto profondo profondità che però purtroppo mi spiace si perde nel secondo film perché non c'è niente non c'è un corrispettivo di emozione di significato come questo che vi ho appena raccontato ecco l'ossessione di Jake Sully del sentirsi utile del sentirsi a protezione del sentirsi un ex soldato che deve fare del bene che deve fare e deve essere fondamentale per gli altri è importante in questo film ma poi si va a perdere in una maniera secondo me poco omogenea certo lui non può controllare tutto e anche se potesse controllare tutto ciò non determinerebbe mai il successo di tutte le missioni la salute di tutti i suoi figli e quindi lui deve fare un passo indietro pensava di essere onnipotente su Pandora invece non lo è invece sbaglia invece fallisce avrei voluto che approfondissero un po' di più il suo rapporto con i figli perché si vede il rapporto dei figli tra di loro ma Jake Sully e la nostra povera Dai Kiri ad un certo punto spariscono dai radar anche se Jake Sully è fondamentale perché il cattivo fa tutto quello che fa per cercare di far fuori Jake Sully quindi ok però non so in 13 anni secondo me avrebbero potuto concepire tutto in maniera più omogenea si sono concentrati sul raccontarci Pandora la Pandora sottomarina bellissimo bellissimo però da un punto di vista di sviluppo dei personaggi avrebbero potuto concentrarsi un po' di più perché sono sicura che sarebbero riusciti a tirar fuori qualcosa di molto più interessante e di molto meglio fatto perché le mettono le robe super interessanti riguardo i personaggi anche il fatto che Jake Sully con i figli sia così rigido però non viene più approfondita quella parte lì ed è un peccato mi auguro lo facciano nei prossimi film tuttavia questo film non è che dura 45 minuti dura 3 ore e un quarto e se in un film di 3 ore e un quarto riesci solo a inserire i germogli di qualcosa che poi avverrà da un punto di vista di personaggi più avanti per Dindirindina per fare un arco normale di un personaggio di quanti film hai bisogno 352 e poi boh mi è sembrato un po' sciocco anche il motivo che dà in là a tutta l'intero film ovvero che loro scappano dalla tribù delle foreste in modo da non attirare l'attenzione dei cattivi sulla povera tribù delle foreste perché tutti sanno dove sta Jake Sully quindi se ne va con la famiglia in un'altra tribù sperando che gli umani non lo trovino da nessuna parte ma sveglia sveglia hanno delle tecnologie incredibili e tu lo sai perché eri uno di loro secondo te soprattutto se poi chiami i tuoi amici umani avatar a soccorrere gente della tua famiglia secondo te non li tracciano i loro velivoli che sono comunque composti da tecnologia umana secondo te non ti troveranno mai quindi cioè allora te ne vai per conto tuo non vai a mettere in pericolo un'altra tribù perché la tua tribù originaria sì e invece sti poveri cristi qua del mare no? chi se ne frega? cioè li mettiamo in pericolo tranquillamente che egoismo ragazzi che egoismo lui ok non aveva calcolato che l'avrebbero trovato lo stesso però se lo poteva aspettare per dindirindina no? cioè sono anche passati degli anni quindi sicuramente le tecnologie degli umani saranno avanzate ulteriormente cioè ma sveglia sveglia quindi non lo trovo neanche così in linea con il personaggio che si è sempre dimostrato anche strategicamente intelligente questo mi è sembrato proprio una sciocchezzuola per dare il là all'esplorazione del nuovo angolo di Pandora quindi una cosa che doveva succedere non sapevano come farla succedere in un altro modo e hanno optato per questa ma passiamo alle riflessioni finali perché veramente mi sto ponendo dei quesiti interessanti a riguardo allora ok nel 2009 un film come Avatar è stato straordinario rivoluzionario non eravamo abituati al 3D non eravamo abituati a quella tipologia di 3D non eravamo abituati a quella tipologia di effetti speciali e il passaparola l'ha fatto diventare il film che ha incassato di più nella storia ma nel 2022 con il 3D che è tipo il nemico giurato per tantissime persone non soltanto per i miopi come me e poi comunque non è che sia tutta sta novità siamo molto più abituati agli effetti speciali non come quelli di Avatar però di base siamo molto più abituati secondo voi Avatar 2 potrà arrivare a incassare tanto quanto se non di più Avatar 1 e l'effetto passaparola sarà così lusinghiero come lo è stato allora perché allora ha riempito gli occhi di milioni e milioni e milioni di persone di meraviglia ed è stato una prima volta ma siamo sicuri che farà così anche Avatar 2 perché non è una prima volta è una seconda volta quindi James Cameron riuscirà a battere se stesso perché è l'unico concorrente che ha in campo oppure verrà battuto dal se stesso del passato che fa un po' una roba alla Terminator se ci pensate e quindi è sicuramente coerente parlando di James Cameron ed effettivamente il 3D oggi ha ancora senso perché comunque Avatar 1 anche visto sullo schermo del computer chiaramente in 2D non in 3D è un film che ha tutta la sua dignità perciò questo 3D è così fondamentale spinge ancora le persone ad andare in sala nel 2022 se una persona non vuole andare a vedere Avatar 2 al cinema se gli dicono però in 3D allora questa ipotetica persona fa oh sì allora devo andare a vederlo assolutamente non lo so non lo so sarà molto interessante vedere l'andamento di questo film veramente interessante e poi è anche molto figo come abbiano coscientemente inserito all'interno di Avatar 2 alcuni elementi che andranno a stuzzicare i giovani della nuova generazione della famosa generazione Z perché ci sono i regaz no? ci sono i regaz e oggi i regaz nel 2022 sono quelli della generazione Z ci sono i love love tra ragazzini ci sono queste dinamiche adolescenziali sia loblobbose che familiari fraterne eccetera eccetera quindi sarà interessante vedere quanto Avatar 2 farà presa sulla nuova generazione ovvero la generazione Z che tutta l'industria dell'intrattenimento sta disperatamente rincorrendo stanno rincorrendo i loro gusti allo sfinimento per cercare di portarli all'interno della baracca perché la generazione Z quanti anni aveva quando è uscito il primo Avatar sicuramente era molto più piccola della sottoscritta e quindi ne ha ricordi sicuramente diversi o magari non l'ha mai visto o magari non so i membri della generazione Z quanti film in 3D al cinema abbiano mai visto quindi Avatar è un esperimento molto interessante da analizzare da osservare con attenzione anche per quanto riguarda quale e quanta presa avrà sui nuovi regaz sui nuovi giovani riuscirà a strizzare loro l'occhio e loro strizzeranno l'occhio Avatar 2 oppure avranno un no no questa è una roba comunque da vecchi cioè da millennials come minimo ciao ciao da una millennial quindi queste sono le riflessioni molto stimolanti almeno per quanto mi riguarda che mi faranno seguire da vicino l'andamento da un punto di vista di critica da un punto di vista di incassi e da un punto di vista di risonanza social di Avatar 2 quindi decisamente un film completo con molti sì e molti no e molto interesse ecco sì davvero vabbè Avatar 2 e la via dell'acqua è stato un bel esperimento alla fin fine sono contenta di averlo visto al cinema e sì dai un po' di voglia di vedere Avatar 3 ce l'ho quindi appuntamento fra due anni yeah